Natale, un giorno. Perché dappertutto ci sono così tanti recinti? In fondo tutto il mondo è un grande recinto. Perché la gente parla lingue diverse? In fondo tutti diciamo le stesse cose. Perché il colore della pelle non è indifferente? In fondo siamo tutti diversi. Perché gli adulti fanno la guerra? Dio certamente non la vuole. Perché avveleranno la terra? Abbiamo solo quella. A Natale, un giorno, gli uomini andranno d'accordo in tutto il mondo. Allora ci sarà un enorme albero di Natale con milioni di candele. Ognuno le serrà in mano e nessuno riuscirà a vedere l'enorme albero fino alla punta. Allora tutti ci diranno. Buon Natale! A Natale, un giorno. A Natale, un giorno, gli uomini e gli uomini e gli uomini e gli uomini e gli uomini. A Natale, un giorno, gli uomini e gli uomini e gli uomini e gli uomini e gli uomini.